torna live alla nostra classifica come sempre le migliori dieci tracce techno italiane della settimana una grande novità in arrivo per il progetto elephant perché a breve diventeremo un'etichetta ma non saremo una label come le altre perché pubblicheremo ormai lo sapete solo tracce made in italy quindi uno spazio solo per voi ovviamente appena saremo pronti daremo l'annuncio ufficiale quindi rimanete sintonizzati ora iniziamo con la nostra classifica questa settimana esce simone tavazzi con cautiousness e alla numero dieci perde tre posizioni enrico curti con go away no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla numero 9, Tom Hutta con Obsolations. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.